Siamo qui al Milan Latin Festival con uno dei più grandi artisti della New Generation, Seo Fernandez, a quale adesso faremo un'intervista sul suo passato, sul suo presente e sul suo futuro. Ma intanto gli chiediamo subito, come ti senti a essere ospite del Milan Latin Festival? Buonasera a tutti, mi sento veramente onorato di essere in questo bellissimo posto, che è desiderato da tutti. Questa esperienza è bellissima e grazie. Ci racconti un po' il tuo percorso brevemente che ti ha portato a essere un personaggio del latino americano? Allora io sono arrivato qua in Italia venti anni fa, quando ancora si parlava solo se facevano emozioni, ho vissuto tante cose e il mio scopo è sempre quello di diffondere la nostra cultura, la nostra cultura cubana che è molto ampia, molto ricca. E allora per quello che noi da ballerini cubani, che abbiamo lavorato altre cose a Cuba, siamo arrivati qua a fare animazione, a fare insegnante, abbiamo dovuto studiare per poter insegnare e arricchire tutta la curiosità che avevano tutti questi italiani che volevano ballare e volevano interpretare la musica cubana, la musica non solo cubana. Allora per quello che noi siamo, tra le piccole età, quelli grandi dicono qua, no, è che noi abbiamo dovuto imparare tanto per poter insegnare in questo paese che è dove... un paese di ballatori, un paese di... la gente ha tanto ritmo dentro. Per il tuo futuro, i tuoi prossimi appuntamenti e i tuoi prossimi progetti? Allora il mio... il mio futuro è sempre come il mio passato, il ballo e il canto. Per il futuro certo voglio ancora di più, adesso ho già fatto quattro videoclip, adesso sto facendo altre nuove produzioni, questo quanto riguarda il canto, ok? Ci saranno tantissime nuove sorprese, non solo nel mondo latino, ma anche la chizomba, la bachata, c'è anche il disco house, no? Allora, questo è nell'ambito della musica, nell'ambito del ballo, come sempre, creare un nuovo spettacolo. Appena portato da cua noi ballerini cubani, e stiamo creando nuovamente il... il latin black, new generation, assicché... congressi, congressi, lezioni, questa è la mia vita. Una scuola? La scuola ce l'abbiamo a Seveso, si chiama Mama Dance Company, è una bella scuola con tanti diversi... come si dice... la danza, la salsa, la bachata, ci sono varie discipline, no? Questo sta a Seveso, si, la scuola è importante, è importante. Allora, per concludere, un saluto a parte di Seu Fernandez agli ascoltatori del Lirisk.it. Signorati e signore, a chi sta Seu Fernandez, no, no, no. Continuate ad ascoltare, a seguirci. Seu Fernandez, grazie. Grazie a tutti.